12 ricorsi respinti su 12 discussi. Il Tar della Puglia dà nuovamente ragione al Policlinico riuniti di Foggia dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso NEOS. Anche questa volta la difesa dell'azienda sanitaria non si è fatta cogliere impreparata e ha prontamente risposto ad ogni eccezione presentata dai candidati che hanno presentato ricorso attraverso una certosina ricostruzione delle varie fasi concorsuali e delle singole valutazioni dei titoli di servizio. Con la conclusione di quest'ultima tornata di ricorsi si procederà abbastanza celermente con l'inizio dell'attività di reclutamento e contrattualizzazione. Il programma prevede il 16 giugno l'approvazione della graduatoria definitiva mentre il 18 giugno ci sarà la pubblicazione delle preferenze manifestate seguendo l'ordine tassativo di merito. Il 19 giugno è previsto l'invio dei documenti preassuntivi alle 10 aziende interessate. Nel frattempo il Policlinico Foggiano continuerà l'attività riguardante la validazione degli attestati degli OS, condizione essenziale per la definitività dell'assunzione. Quelle immediate saranno 1671 ma potranno essere implementate in base ai piani di fabbisogno di personale OS per il triennio 2021-2023. La Regione Puglia ha avviato informativa sulla fruibilità della graduatoria per eventuali convenzioni extraregionali per le assunzioni secondo l'ordine di posizione di merito.